YOLANDA SWITZ E mi sono arrivati in questo tubone Oddio aspettate che escono le cose all'interno Attenzione mi sono arrivati due tubi come questo Due Uno ve lo vado ad aprire adesso Un altro ve lo vado ad aprire un altro giorno Comunque andiamo ad aprire appunto Oddio il tubo No Oh mamma mia il codore Oggi Oddio Cos'è uscito l'interno Oddio Oddio ragazzi adoro Guardate cioè no ragazzi Ecco cos'era quel profumo Guardate qua Mamma mia questi qua ve lo giuro Io questi li amo da morire C'è raga guardate che belli questi Allora questi qua sono i pick me pop Nuovi push me up Praticamente cosa fai Esplodono ragazzi Dopo li andiamo ad aprire insieme Allora Vado a togliere questi Chi lo sa se c'è altro Io spero vivamente di sì Oh Tutti gli sprinkles Sopra Al tavolo Mi hanno riempito di palline Oh mamma mia Mi hanno riempito di palline E di sprinkles No ragazzi a quanto pare È solamente questo Se non vorrei sbagliarmi Avete sentito Mi hanno riempito di palline appunto Questi due li vado ad aprire tra pochissimo Per vedere come funziona Ci sono altre palline da ping pong Non so potrei farci qualche slime Datemi qualche Aluto Allora I pick me pop Che mi hanno messo sfusi All'interno della nostra confezione Sono questi qua Andiamo a prendere Le rispettive card Per vedere Se sono rari Se non sono rari Vediamo un po' che teno Uh Anything pop cycle Bubble gum A bubble gum Ragazzi sa Di gomma da masticare Allora Vediamo questo Vedete Che è il gattino Mario Rippled cat Andiamo a vedere You are big softy Bubble gum ripple Sempre gomma da masticare Sa sempre di big bubble Poi La scimietta Che è questa qua Questa qua si chiama Ok Stay cool Berry Che si chiama Twirum The monkey Berry bliss Oh Mamma mia ragazzi Questo è il mio profumo preferito Poi guardate quanto è carina Pelosina Tutta tutta colorata Anche questa che è rosa Bella 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 Poi però Devo dire una cosa Probabilmente Il mio preferito Sarà Lui Lui è il mio preferito A parte il fatto che È stra morbido È stra pelosetto Ma Di cosa sa Oddio sembra Sa più di cioccolato Credo Poi è un riccio Ragazzi E io amo i ricci E si chiama Parfait Egg Egg Oddio è difficile dire riccio In inglese Egg Egg Va bene Comunque è un riccio Molto pelosino Ve lo giuro ragazzi È morbidissimo Questo qua Che è Iced bunny Oh Questo è Un Coniglietto You are so pop cycle E infatti si sentiva ragazzi Sa Tantissimo Di marshmallow Wow Questi qua piacciono anche a mia mamma Piacciono anche a mamma Silvia Questi Quindi Sì Poi c'è questa Che è Sunday Co Che è praticamente una mucca E sa di berry twist Sia che questa sa di Di berry Mamma mia L'odore di berry È Fortissimo Ci sono le palline dentro Che secondo me Profumano Raga Mmm Che buono Allora È arrivato il momento Di andare A scartare I nuovi Pikmi Pop Da qui penso Quando si schiaccia Dovrebbe uscire Il Pikmi Pop Vediamo Wuuu 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 Vabbè Raga Vabbè Ma adoro Che bella Omom Mamma mia Ragazzi Questa di cosa sa Pudding The pony Ok Dovrebbe sapere Di pudding Non lo so Mamma Sa di qualcosa Di dolce Choco Chunk Ok Sono praticamente Le gocce di cioccolato Ragazzi Ma a parte Che ha un colore Strepitoso Sembra tipo Pistacchio Fragola E panna Non lo so Ma ha Un odore Veramente Spettacolare Secondo Stesso metodo Wow ragazzi A questo punto Mi sa che già Ho fatto la collezione Adesso Spero Non un doppione Ragazzi Speriamo in bene Non in un doppione Ovviamente Questi qua li potete trovare Ovviamente In tutti Oh Non ho avuto neanche Il tempo di aprirlo In tutti i negozi Di giocattoli Allora No Poh Volevo fare Poh Infinitamente Ma non ci sono riuscita Che cos'è Che cos'è Ah Anche il cagnolino Ok mi mancava Penso che anche questo Sappia di Gocce di cioccolato Credo No Chocolate ripple Anche questo Chocolate ripple Per il momento Ne abbiamo 4 e 4 8 Io spero di finire La collezione Questi ve li consiglio Tantissimo Perché Mi piacciono tanto Anche mia mamma Se ne è innamorata Va bene Con questo è tutto Spero davvero Che questo video Vi sia piaciuto Apertura dei nuovi Pick me pop Push me ups Wow Festeggiamo insieme Veramente super carinissimi Super dolci E super pucciosi Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Vi voglio tanto bene Vi mando Un bacione Un abbraccio fortissimo E noi come sempre Ci vediamo domani Alle ore 14 e 30 Con un nuovissimo video Bye bye